Presidente, oggi illustrate questa legge che verrà presentata poi alle Camere. Sì, diciamo che il nostro garante per l'infanzia è un garante che ha grande conoscenza dell'ordinamento giuridico della Repubblica e ha notato che vi è una lacuna che nel corso del tempo è diventata particolarmente complicata, ovvero la non presenza tra le categorie agevolate nelle assunzioni secondo la legge 68 di figure che oggi svolgono una funzione anche di sostituzione dei compiti dello Stato, cioè una madre con un figlio disabile. Ora già una madre di per sé ha una dura difficoltà nel costruire una dimensione nel suo ruolo fondamentale di educatrice ma anche nel suo ruolo di lavoratrice. Immaginiamoci quando questa madre ha già questo compito gravoso e importantissimo da svolgere di un ragazzo però con disabilità. La Regione ha già provveduto con una serie di norme o di finanziamenti aumentati a creare situazioni in cui il genitore può diventare di fatto il conduttore, l'assistente principale e il proprio figlio. Adesso noi non possiamo legiferare in materia di Stato, in questo caso, però possiamo, secondo l'articolo 121 della Costituzione, approvare in Consiglio regionale una norma che diventi da stimolo per il Parlamento. È nata in collaborazione con la nostra garante dell'infanzia, la dottoressa Falivene, che è sempre molto attenta a queste problematiche e credo che tutti quanti noi sappiamo il problema che hanno le donne in generale, quindi c'è sia un gap a livello di occupazione che anche un gap a livello di retribuzione. A maggior ragione queste problematiche si acquiscono quando ci sono dei figli disabili, per cui le donne sono costrette, ma lo fanno anche in maniera, ci mancherebbe più che giusta, ad occuparsi di questi figli, quindi hanno un problema a entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Cosa che, ripeto, anche senza figli disabili è molto importante questa preoccupazione.